Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. L'attrice Demet Osdemir è stata avvistata mentre lasciava il suo ufficio manageriale a Eteleri il giorno prima. Osdemir ha chiacchierato con i giornalisti e ha detto, ogni progetto che interpreti è discusso molto e gioca al top. Sei conosciuto in molti paesi. Come ci si sente? Mi stai mettendo in imbarazzo, sto cercando di fare del mio meglio. Penso sempre positivo. Sto lontano da tutto ciò che è negativo. Affermando che il suo matrimonio con Wuhan Coach sta andando bene, l'attrice ha detto, siamo molto felici, va tutto bene. Demet Osdemir ha spiegato i criteri della sceneggiatura come segue, se posso portarmi da qualche parte quando leggo, se posso disegnare con i miei occhi. Questo è il fattore più importante nella mia accettazione di quelle scene. Demet Osdemir, che condividerà il ruolo principale nella serie tv My Name I farà con Andy Nakichar. Ha detto che ha agito con le sue emozioni durante la scelta del progetto. Osdemir, che era davanti alla telecamera per la rivista Vogue Turchia, ha aggiunto di essere preoccupato per la recitazione. Osdemir ha detto, ho sempre voluto assicurarmi di essere bravo, stavo cercando di dimostrare di essere autosufficiente. Finché mi ha toccato, storie e personaggi simili a quello che ho passato. Sono stato in grado di divertirmi a recitare inseguendo cose reali. Non importa se i progetti che interpreterò sono romantici, comici, drammatici o d'azione. Osdemir ha detto, se il sentimento dentro di me mi porta da qualche parte. Se riesco a sentire e sentire mentre leggo, non giro davvero quelle scene con i miei occhi. Il fattore più importante nell'accettare quelle scene. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.